In 5 giornate si è disputata in ultima settimana il suo Rai 1 e partita di ritorno tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi. In partita di Andaga si è disputata il 14 marzo e è stata annuncata da Clemente Pimba. Come sapete Silvio Berlusconi è il presidente del Consiglio di Cari, il presidente di Forza Italia e il candidato premia della Casa delle Libertà. Romano Prodi è leader e candidato premia per l'Unione. Vi ricordo le regole di questi confronti, domande di 30 secondi da parte di Roberto Napoletano direttore del Messaggero e da parte di Marcello Sorgi del Poderista della Stata. La stessa domanda vale per entrambi gli ospiti che avranno due minuti e mezzo per rispondere e un minuto per una premia. Alla fine ci sarà, come vi è chiamato l'appello finale, due minuti e mezzo per ciascuno dei nostri ospiti. Come sapete, al collaboratore si dà esclusamente il ruolo di controllare il regolato oggetto del confronto. Per un'imprecisione dovuta ai meccanismi di erodaggio della prima puntata, Berlusconi avrebbe dovuto fare l'appello finale che invece fosse segnato a Romano Prodi. Quindi stasera toccherà Silvio Berlusconi, un po' più libero. Questo confronto andrà in un'altra sera a mezzanotte nella versione LIS su Rai 3 per gli unidenti a cura di Rai News 24. Allora, la prima domanda alla quale, ripeto, risponderanno i miei ospiti e tendo a fare l'appello finale che non c'è l'esercito di Rai News 24. Grazie.